giuse 10 degli esonerati compra iscritti allora questo video sarà montato così al volo quindi non è preparato non è scritto nulla un po talk to talk qualche mese fa un mesetto fa popi popi e adesso lo chef alias cazzaro 69 hanno asserito che giuse 10 degli esonerati compra follower però c'è un piccolo problema di fondo andiamola a vedere allora questo è proprio uno screenshot del video di popi che lui lo chef hanno preso in considerazione hanno preso in considerazione solo questo sito qua effettivamente se voi inserite il link del canale degli esonerati viene sempre fuori il numero 567 tenete a mente questo numero allora non c'è solo quel sito per vedere gli utenti reali e adesso andiamo a vedere qualche altro sito tra cui uno dei migliori che è il secondo che vi mostro adesso allora il primo è noxinfluencer.com e che qui vedete ci sono sempre 3400 iscritti il secondo che è il più attendibile è questo che si chiama socialblade.com queste sono cose che potete verificare voi non è che sto qua raccontarvi di puttana il terzo subscribercounter.com anche qua vedete 3400 iscritti il quarto socialcounts.org 3399 addirittura uno in meno il quinto il social counter punto com 3400 iscritti e adesso andiamo all'ultimo sito quello preso in considerazione da popi e dallo chef stellato green.com mi sembra ecco 567 ad oggi da come due mesi fa come l'altra settimana questo cosa vuol dire che ovviamente c'è stata una forzatura nello scegliere sempre lo stesso sito l'unico che dava 567 cioè nemmeno un sesto degli iscritti che hanno i desonerati e quindi si basa tutto su puttanate perché ci sono siti più attendibili come socialblade che dimostrano il contrario e adesso vi faccio vedere le ultime due kick allora come accorgersi se è un canale a falsi subscriber allora se aprite google e cliccate questa pagina allora vedete chi ha meno iscritti chi compra gli iscritti allora la prima regola per accorgersene è i contenuti postati sono pochi e o di scarsa qualità vabbè qua ragazzi sta a voi decidere questa cosa qua la seconda è poche visualizzazioni per singolo video e qua mi sembra che già accade questo punto il primo è opinabile dipende da gusti il secondo proprio zero e il terzo poco engagement cioè commenti e dislike anche qua in base alle visual non mi sembra e questa era la prima cosa la seconda chicca è questo è un motore di ricerca che si chiama strumento di controllo youtube gratuito controllo credibilità di abbonati e pubblico falsi ora è tradotto in italiano quindi non so comunque siccome qualcuno potrebbe dire eh ma ti hai preso dei siti dove ti fa vedere gli iscritti in generale no no allora anche gli altri funzionano come questi però questo lo specifico se voi andate a vedere qua su iscritti torna sempre 3400 iscritti questo in definitiva cosa vuol dire che è incontrovertibile che giuse e gli esonerati non hanno comprato gli iscritti io sfido chiunque a dire il contrario mi faccia vedere un altro sito fuori da quel green punto co che da da tre mesi 567 e poi ne potremo parlare anche perché poi diventa diffamazione tutto qua ciao a tutti